Ciao ragazzi, sono Edoardo Tavanti, sono tastierista della Steve Folia Society. Vi parlerò dell'ultimo singolo che è Life is a Game. Allora, questo pezzo è stato scritto da Daniela Rieta e mi ha incaricato di inventarmi un'introduzione. Siccome il pezzo è rock, ma della natura di musica classica, ho pensato nell'introduzione di mettere un'orchestra di arti. Praticamente sono quattro voci, viola, violino, violoncello e contrapasso, che suonano una progressione discendente, si fermano sul sol settima e poi il pezzo è inizio in donna. Allora, dal vivo ci siamo dovuti arrangiare in questo modo. Le parti di viola e violoncello le suono io con la tastiera, la parte di violino e il canto la suona chitarrista, mentre la parte del contrapasso la suona Mario con il suo basso elettrico. Adesso vi darò una dimostrazione. Quello che è da dire è questo, in fase di registrazione, vedete qui ci sono le tracce, ho arrangiato gli arti in maniera che suonassero via le valencini più vicine, mentre dal vivo, per una questione di praticità, ho dovuto allargare le parti e ho suonato le viola e i violoncialli un po' più distaccati, un po' più appartenati. E così poi il pezzo si trasforma in un pezzo rock con dei rimandi a di parco, per la musica che noi siamo cresciuti da ragazzi. Un saluto grande e vi aspettiamo ai nostri concerti.